Riflettere sull'etica, l'educazione, l'economia e il lavoro, a partire dall'enciclica del Papa Benedetto XVI, Caritas in Veritate, il testo che analizza e approfondisce il tema dello sviluppo economico in un momento in cui i mercati internazionali affrontano una grave crisi. E' questo l'obiettivo del convegno organizzato nella Basilica di San Paolo dal professor Antonio Cocozza. Un'analisi dell'enciclica Caritas in Veritate dai diversi punti di vista, soprattutto dal punto di vista sociale e dal punto di vista economico. E quindi come in questo momento in cui sia la dottrina economica sia le prospettive stesse dell'umanità sono molto incerte. Lei ha detto che Caritas in Veritate era già pronta nel 2007, perché poi è stata posticipata di due anni? Beh, ci sono stati vari eventi a livello finanziario, a livello economico, c'è stata tutta la vicenda dei mutui che poi in America non sono stati onorati dai pagamenti e poi il crollo, la crisi di alcuni istituti finanziari evidentemente si è ripercorsa a livello planetario. Il professor Cocozza ha sottolineato quattro punti fondamentali di Caritas in Veritate. Gli insegnamenti della stessa enciclica, l'importanza dell'educazione per lo sviluppo della persona, il fondamentale legame che dovrebbe legare l'attività economica, l'etica e il mercato e l'impresa come una risorsa per il bene comune. Alla luce dei quattro punti trattati sull'enciclica, quali sono le nuove prospettive del mercato? Il mercato se vuole crescere ha bisogno di infondere maggiore eticità e maggiore attenzione ai clienti, ai consumatori, ai lavoratori altrimenti il rischio è che ci sia una involuzione e quindi non è capace di concorrere effettivamente con una logica di competizione libera. Caritas in Veritate affronta il tema dello sviluppo policentrico, laddove non esiste più un solo polo economico a livello mondiale e rimarca e ammonisce lo scandalo delle diseguaglianze. L'economia mondiale, ma non da quest'anno, già da una decina d'anni, è trainata da nuove locomotive che si chiamano Cina, India, Brasile ma anche economie dell'Asia e del Sud America più piccole. Insieme ad esse ci sono anche dei risvegli di grosse economie europee che però hanno scoperto una nuova vitalità come la Germania. Come si svilupperanno le diseguaglianze all'interno degli stessi paesi e tra i paesi stessi? Quello che noi vediamo è che all'interno dell'Europa il tema della diseguaglianza dei tassi di occupazione e soprattutto dei tassi di occupazione giovanile, femminile, si sta proponendo all'attenzione con l'Italia che non riduce i divari rispetto alle aree, ai paesi e anche direi alle regioni più progredite della nostra Unione Europea. Il tasso di disoccupazione in Italia è circa il 9%, quello della disoccupazione giovanile sfiora il 30%. Molti ragazzi sono sfruttati e sottopagati, ma l'enciclica Caritas in Veritate ricorda che il primo capitale da salvaguardare e valorizzare è proprio l'uomo. Il consiglio è quello di studiare sicuramente, di impegnarsi e di fare bene il proprio ruolo e il proprio lavoro. Lei ha detto ai giovani andate avanti con fiducia, esortandoli a non mollare nonostante le gravi difficoltà lavorative che incontrano. Sì, credo che oggi sia davvero il momento in cui dobbiamo incoraggiare, ma non soltanto sul piano puramente emotivo, sentimentale, ma incoraggiare partendo la consapevolezza che si può creare un nuovo sviluppo. Ci sono tante forze positive in atto nella società.